E' arrivato il momento di svappare, svappo! Ma nel frattempo noi non facciamo polemiche, ci daremo da fare per far togliere questi rifiuti. Bisogna fare una potatura degli alberi, in alcuni lati del parco praticamente hanno bisogno di una potatura. Vi è il problema della pubblica illuminazione, ma su quello ho dato ampie garanzie perché noi stiamo facendo un progetto finanziato e in effetti l'impianto di pubblica illuminazione che è infaticente, è datato il nostro, con un progetto financing sarà messo a norma tutto quanto con le luci LED e su questo appunto stiamo portando avanti questo progetto, un po' come ha fatto Montesarchio. Questi sono i punti cardine sui quali, insomma di vivibilità soprattutto. Noi non a caso abbiamo convocato perché a noi interessa il dialogo con i cittadini e cercheremo di dare risposte nei prossimi giorni.